Grazie, grazie mille, grazie. Che effetto fa? Sinceramente ci sto capendo veramente poco. Voglio essere sincero, è una sensazione stranissima perché il festival è fatto anche di attese lunghissime e devo dire ti carichi di un'emotività che non sei in grado di gestire. Sono sconvolto perché sin dal primo giorno di questo festival mi sono sentito comunque accolto con un calore che non mi aspettavo. Ricevere tutti questi premi...